Doveva essere un normale pomeriggio di allenamento per il Corato che, forte del vantaggio del 2-0 conquistato in trasferta contro il Molfetta, attendeva il ritorno dei quarti di finale di Coppa come una normale prassi per archiviare il passaggio. Invece tutto non è andato come ci si aspettava, il Corato troppo molle e il Molfetta che dopo pochi minuti ha capito che poteva tentare il colpaccio. Gli episodi principali sono nel primo tempo, mentre a fine gara, dopo i calci di rigore che hanno dato il successo al Molfetta, c'è stato un po' di trambusto negli spogliatoi, ma di questo vi parleremo alla fine. Veniamo alla cronaca. All'inizio la partita sembra soltanto un passo a me e io passo a te perché anche il Molfetta ci credeva poco. Invece poi al ventesimo, alla prima azione pericolosa, arriva la rete del vantaggio biancorosso. Su cross dalla destra di Roselli, trova la deviazione vincente di testa al Brizio, 1-0 per il Molfetta. Il Corato è scosso, ma dopo pochi secondi, al ventiduesimo per essere precisi, arriva una conclusione dal limite di diritto che sfiora la traversa, mandando il portiere quasi a recuperare il pallone dal fondo della rete. Invece la conclusione di diritto non è delle migliori. Il Corato non riesce a trovare spazi, la difesa del Molfetta è ben chiusa, non arrivano i palloni alle punte della formazione di Scaringella e quindi ci prova il difensore da dato con un tiro dal limite che però tira alto al minuto 35. Nel finale del primo tempo è ancora Albrizio al 43 che prova a chiudere la gara dei primi 45 minuti con un doppio vantaggio. Però in uscita Casella riesce a chiudergli lo specchio della porta e il risultato a riposo rimane 1-0. Al rientro in campo inizia Scaringella a cambiare qualcosa sulla sua scacchiera, toglie Zinetti e mette Ivan Cannillo, una sostituzione che però non dà i risultati sperati. Al minuto numero 4 ci prova Piarulli, la prova prova la botta dal limite ma sulla traiettoria Pinto respinge distinto. Il Molfetta capisce che è il momento di chiudere e dopo tre minuti al settimo un'azione fotocopia del primo gol, questa volta ad Incornare e Albrizio, il cross naturalmente è di Roselli. 2-0. Ci prova il Corato al sedicesimo ed è Coteglio che va vicino al gol con un diagonale che attraversa lo specchio della porta e sfiora il palo alla sinistra di Turi. Inizia il waltzer delle sostituzioni, ce ne sono ben cinque per il Corato e tre per il Molfetta, compreso anche le ultime sostituzioni che servono per mandare in campo l'esperto portiere Leuci e anche il giovane Sergio che fa il suo esordio nel Corato. Si arriva quindi al minuto 44 quando il Corato prova a ribaltare il risultato. Punizione dal limite di Colucci che di testa però di rito non riesce a sfiorare e il portiere para a terra. Si va ai calci di rigore. Inizia per il Corato di rito rincorsa ma il pallone termina molto alto sulla traversa facendo imbestialire non poco i tifosi coratini. Per il Molfetta ci prova il numero sei amoruso dal dischetto ma anche lui copia l'esecuzione di diritto e manda alto. Tocca a Colucci uno che ha i piedi buoni per il Corato. Si fa stregare da Turi e il rigore viene parato. Il primo gol dal dischetto è di Lorusso portiere da una parte e palla dall'altra. Tocca al Corato al suo terzo rigore e questa volta è Angelo Colella su cui tutti avrebbero scommesso per il gol. Infatti Colella non si fa dire la parola e realizza il primo gol dal dischetto per il Corato. Però dall'altra parte non sbaglia Vitale forse tra i migliori della formazione molfettese nella ripresa. Anche Vitale segna. Dal dischetto per il Corato va Coteglio e anche il giovane attaccante Coratino non sbaglia e realizza il secondo calcio di rigore su quattro tirati. Per il Molfetta è Albrizio autore già del gol durante il primo tempo e anche Albrizio un'ottima esecuzione e insacca alle spalle di Leuci. L'episodio che mette fine all'incontro è quello di Colangione. Va sul dischetto lo stopper Coratino ma si fa parare il rigore da Turi e il Molfetta può festeggiare il passaggio del turno e giocherà la semifinale di Coppa Italia d'eccellenza. A fine gara il pubblico contestava il tecnico Scaringella che in maniera anche plateale dimostrando anche la sua grande personalità ma soprattutto la sua grande educazione chiede scusa ai tifosi e facendo che avrebbe lasciato la panchina in serata.